napolini napolesi napolesi ormai e anche il napoli porca miseria speravo almeno in un pari non sapevo che il napoli non vinceva se lo sapevo questo però almeno spero speravo in un pari dico sai rimaniamo la questi non si fermano non si fermano non si fermano ragazzi non si fermano così anche il napoli definitivamente fuori dal giro scudetto perché anche ormai napoli e rimaniamo in tre rimaniamo in tre su quelle tre dire sono quelle tre di milan juve inter ma 3 a 0 sono rimasto sul 3 a 0 sto facendo il video nel momento in cui l'inter assegnato 3 a 0 non mi aspettavo una roba del genere non mi aspettavo non mi aspettavo una roba del genere proprio quando prende un gol all'ultimo minuto all'ultimo alla fine del primo tempo di italia le gambe poi li ho visto che gli napoletani si sono incazzati di brutali per un per un rigore per un anno hanno protestato molto i napoletani e che sul 1 a 0 e c'è un fallo di acerbi su uno sonda sono mi ricordo chi non lo so è non lo so però questo dicono che hanno protestato veramente veramente poi l'inter va sul 2 a 0 lì finisce la partita lì finisce la partita ragazzi gli undici in campo dell'inter sono forti gli undici gli undici in poi c'è il contorno si magari tira fuori uno qui ce ne hanno anche qui tre quattro in panchina però quegli undici sono forti barella c'è la no glue e e mi chitaria ragazzi sono poi ci hanno di marco i dunfris ed è sono forti poi davanti c'è un turam che è una bestia più leutaro la difesa è solida e solida e sono forti sono forti è inutile che c'è chi c'è chi sminuisce la rosa dell'inter il primo è il sergione una volta vi ho fatto il paragone fra la rosa della juventus e quella dell'interno vi ricordate col 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 fogliettino no noi abbiamo questo loro hanno quello non avevo questo loro ecco no quindi ragazzi bisogna essere onesti bisogna essere onesti sono forti hanno fame hanno le palle e questo è questo è su comunque noi torniamo indietro di due punti i due punti in milan dietro di quattro punti siamo lì siamo in tre di adesso però le ce l'abbiamo noi dura domenica domenica ce l'abbiamo noi dura perché loro hanno in casa l'udinese che gli ficheranno tre quattro pippe noi abbiamo in casa il napoli e lì sarà una battaglia una battaglia e li devi vincere devi vincere perché loro vinceranno e milan va a bergamo con l'atalanta quindi anche il milan ce l'ha dura ce l'ha dura quindi quelli li possono addirittura allungare possono addirittura allungare ragazzi onore ai vincitori perché quello che c'è da dire c'è da dire sono forti e basta non mi vergogno a dirlo è non mi vergogno a dirlo comunque fino alla fine fino alla fine ve l'ho già detto volete lo scudetto volete dovete sudarvelo fino alla fine fino alla fine perché ho visto anche che ne c'è anche il milan recupero sta recuperando gli infortunati e sarà un bel campionato a tre è un bel campionato a tre se sempre se al milano non si infortunano di nuovi giocatori che tornano che tornano a repete no come noi speriamo che non si spacchi più nessuno perché pare che abbiamo che li abbiamo recuperati tutti a parte quei due cretini lino uno lì nero e quell'altro di lo scommettitore no a parte quei due li pare che li abbiamo recuperati tutti quindi boh decidere la facciamo perdere quello lì no vabbè niente ragazzi buona notte a tutti i belli brutti iscrizioni ai canali mi raccomando mi raccomando laica campanellina una buona notte tutti un buon inizio settimana a tutti e ci vediamo la prossima ragazzi speravo speravo in un pareggino e speravo in un pareggino un pareggino